Adesso l'economia, Estra si appresta allo sbarco in borsa. Si avvicina l'ora della quotazione per Estra. La multi-utility toscana presieduta da Francesco Macri e guidata dall'amministratore delegato Alessandro Piazzi infatti dovrebbe approdare in borsa nei primi giorni di novembre, confermando così le indicazioni dei mesi scorsi. Estra collocherebbe sul mercato da un minimo del 35% ad un massimo del 49% della capitale sociale e sarebbe previsto un patto di sindacato con il compito di blindare il controllo e di assicurare la governance. Estra, attiva nella fornitura di gas, energia elettrica e nel campo delle telecomunicazioni, è presente oltre che in Toscana anche in Umbria, Marche, Abruzzo e Molise con circa un milione di utenti. Nel frattempo l'azienda ha dato il via a E-Cube, la prima start-up call di Estra nata con l'obiettivo di selezionare idee innovative a livello italiano e internazionale con forti capacità di scalabilità in settori inerenti al business di riferimento della multi-utility.